Di nuovo questa donna talava, io non ci posso credere. Ragazzi, state attenti a dove mettete i piedi, mi raccomando, dobbiamo trovare il modo di fuggire. Espi, praticamente, non so bene perché, ma c'è talmente tanto caldo che compare la lava ovunque. Ok, quindi mi raccomando, attenta dove metti i piedi. Non vorrei che qualcuno ti spingesse, tipo così. No, 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 iniziate, non iniziate a litigare. Allora, stiamo in una situazione critica. Aia, aia, cercate una via di fuga. Vedete qualche posto delle scale. Dov'è? Ah, no, no, sono pieni di lava. Ok, io non passerò di lì. Allora, queste altre scale. Andiamo, andiamo verso l'alto, mi piace. Aia, aia, si brucia, fate attenzione. Piano, andate. Concentratevi, andiamo piano, piano, piano che qua si brucia. Perfetti, attenti a non andare né troppo a sinistra né troppo a destra, altrimenti bruciate. Ci sono delle ceste vuote, dannazione. Qui c'è una ceste, qui c'è una ceste con dei cartelli. Ma ci sono anche dei cartelli. Chi vuole leggere? Una voce molto avventuriosa, per favore. Io, 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 io. Vai, vai, una bella voce. Per sopravvivere, dovete arrivare al castello e recuperare tre oggetti magici. Una mela d'oro, una pozione di esperienza e un libro incantato. Perfetto. E da dove ci ditti ce le togliamo fuori queste cose. Non lo so, Fere. Non lo so, chiedilo a quello che ho scritto. Non so se vi siete affacciati un attimino. Avete visto? Ma siamo totalmente ricoperti di lava intorno. Beh, dai. Cioè, guardate intorno. Mi sembra un posto tranquillo. Dentro questo cesto mi sa che c'è un po' una sorta di kit per sopravvivere. Quindi ognuno se ne prenda uno. Rubate quello di Espy, mi raccomando. Io ho un ragionamento da farvi. Abbiamo da trovare tre oggetti. Non ci hanno specificato dove si trovano. Quindi, secondo me, si trovano in delle zone molto appariscenti. Quindi, diciamo, qualche posto molto alto, qualche posto molto particolare. Ok. Secondo me lo troveremo lì. Io direi di averlo trovato. La chiesa, Espy? La chiesa decisamente è la cosa più prominente. Assolutamente sì. Ma è qui. Però ascoltate un attimo. C'è un fossato tra noi e la chiesa. Quindi io direi che prima di andare alla chiesa proviamo a vedere se, andando verso destra, vediamo qualcosa di particolare dove ci potrebbe essere un'altra ceste. Va bene? Ottima idea. Ok. Andiamo subito. Allora, allora. Devo saltare io per primo? Sì. Ma il primo tanto è sempre quello che si sbaglia. A te è l'onore. Allora, io sinceramente non voglio rischiare all'inizio, quindi mi faccio un punticello. Dai, esagerato, però. Non rompete, dato che potete sfruttarlo anche voi. Esatto. Ok, finché li spreca lui, allora facemogli fare quello che vuole. Ora ne ho solo tredici. Di qui è tutto molto semplice. Uh, che bello. Allora, guardate qua, guardate qua, è pieno di torri molto alte. In una di queste torri, secondo me, ci potrebbe essere. Quindi io direi che le possiamo provare ad esplorare e vedere se in cima c'è un oggetto. Ok, perfetto. Quindi andiamo verso la prima torre. Espy, tocca a te. Oddio. No, no. Aspettate. Hai qualche idea? Gettarmi un po'. Attento, eh. Mamma mia, un pazzo. Oh, mamma mia. Allora, qui mi giocherò un blocco, gente. Vai, vai, vai. Ma me ne gioco due perché ho sbagliato a posizionarne uno. Geronimo. Ok. Inizio a salire, inizio a salire perché ho paura. Non penso di farcela, ve lo dico. Fede, dai, è facile. Forza, forza. Ti prendiamo noi, Stef. Tutto ok? Per arrivare alla torre. Oh, mamma mia, ragazzi. Ok. Ma che è questa storia? No, questa volta qualcun altro. Dai, Luca. Luca, Luca, Luca. Io? Sì, sì, sì. Che sei in costume da bagno, sei perfetto. Vai. Ok. Tutto a posto. Vai, Espy, segui. Arrivo. Ok. Aiuto. Ok. Tutto a posto. Attenti a non scivolare o ad essere spinti. Oh, ma che mi ha picchiato. Ciao, Espy. Non ero io. Espy. Non buttatevi giù. Non è una buona idea. Ok. Bellissima idea. Ho fatto un ponticello. Bellissima idea, Luca. Quindi ha usato anche Luca tre blocchi. Ok, andiamo, 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 andiamo. Per rompere una volta che qua ci buttiamo di soffi. Siamo vicini alla prima torre. Creiamo un ponticello minimo per arrivare fino alla torre perché lì vedo che c'è una scaletta e possiamo sfruttarla. Vai, Luca. Luca, pensaci tu. Rimarrà quasi senza blocchi, Luca. No, non mi spingere, Espy. Ce l'ha lato. Attenti, attenti, attenti. Attenti. Allora, state distanti. Luca, dai, su, 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 su. Uh, ok. Basta saltare, Espy. No, no, io non mi fido. No, no. Espy, salta, forza, forza. Per il bene di tutti ho messo un blocco. Per il bene di tutti ho messo un blocco. Anche io preferisco così, sinceramente. Qua posso mettere un blocco. Ok, ok. Vado io. Vai, Espy, vai. Sei incastrato. Sei incastrato. Però non ci sia la banca qui in alto. Ok. No, aprimi. L'ho chiusa. Ma dai, nel metodo dell'Apocalisse di lava. Mi sono piccolato in faccia. Vieni, dai, dai, su, su, su. Allora, te la merita, Steph. No, Fede, dai, fai da brava. Non darmi i colpi. Te lo meriti. No, 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 no. Ti sono lasciata in faccia, dai. Calmi, calmi. Allora, ascoltate a merito. Noi, possiamo scavare. Facciamo così, ok? E creiamo una sorta di stradina dentro l'edificio. Ok. Ok. Allora, io qua penso di saltare. Non credo che sia pericoloso. Quindi vado così. Oddio. Dopodiché buco anche questa cesta. E teoricamente entriamo dentro. Dai, forza. Siamo saltati insieme. Uno alla volta. No, non ci credo. Dai, Fede. Cos'è un pacco di regalo? Perfetto, 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 perfetto. Oh, che bello. Questo è per te, Espi. Tuo, è tuo. Apri. Davvero? Mi prometti che non esplode come tutte le cose che mi regali? Promesso. Beh, ci sono già fin troppi pericoli in questo mondo. Ci mancano solo i pacchetti di regalo. Oh, che bella rubato. L'aspettate di bisticciare voi? Ok, avete finito? Ascoltate a me. Ascoltate a me. Sto guardando un pochettino dall'alto. Secondo me la torre davanti a noi. Guardate davanti a me. Quella lì è la più alta. Ma non quella, Espi. Davanti a noi. Lì. A nord. Espi a nord. Lì. Esatto. Secondo me è ancora più alta rispetto a questa. E quindi secondo me è lì la cesta. È vero. Ma dici? Dici? Oddio. Sì, il discorso è che arrivarci non è semplice. Attenti a non spingervi tra di voi, eh. Per favore. Possiamo scendere qui senza problemi. Dopo di che... Aspettate, è un'idea. Un'idea, un'idea. È un po' pericoloso, eh. Però possiamo fare così e poi bucare questo palazzo per entrare lì dentro. Perfetto, perfetto. Allora, devo investire qualche blocchetto. Facciamo così. Forza, forza, forza. Venite. Da qui c'è una scaletta e possiamo salire. Approfittiamone. Facciamo che rompiamo questo balconcino. Andiamo sul tetto, Stef, direttamente. E dal tetto come facciamo? Luca? Luca? Dove è Luca? Ah, da qui, da qui, da qui. Bravissimo. È un genio. Da qui, ragazzi. Guardate. Guardate qui che cosa si è inventato. No, vabbè. Oh, la scala di cesto. La scala di cesto. Ha trovato il modo di fare le scale senza usare blocchi, vabbè. Allora, la cesto non è... La cesto, va bene. La torre non è troppo lontana e possiamo passare da queste mura. Quindi, se noi ci avviciniamo qua e crea una minima stradina, teoricamente è fatta. Guardate un po'. Oh, oh. Ok. Dopodiché scendiamo. Io mi butto proprio, tanto recupero la vita. E siamo molto vicini. Ok, 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 ok. Addirittura fa a salutare tutta questa strada per una volta. Io sono già alla torre. Vi aspetto lì. Ok, arriviamo, arriviamo, arriviamo. Non sono loro che sono un po' indietro. Io buco. Assolutamente. Uh, attenti, attenti, attenti. C'è della lava. C'è della lava anche qui. No, 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 no. Vedete una scala? Ragazzi, non c'è una scala qua dentro. No, no, no. Però di qua c'è un tetto. Guarda, guarda, dove? Dove, 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 dove? Ah, hai ragione. Aspetta, aspetta. Ok, parkour nell'albero. Mi piace. Mi aiuto. Mi piace, mi piace. Andiamo? Ok, oppla, oppla, oppla. Attenti a non spingervi, eh. Non c'è molto spazio. Piano, piano, piano. Siamo tutti attenti. Luca, ci pensi tu? Attenti. Attenti a non spingervi, mi raccomando. Che bellini che siete tutti abbassati. Tutti appiccicati. Aggrappati alle foglie dell'albero. Ok, ci siamo? Toglietevi un attimo che rischia di darvi un colpo. Buco qua e saliamo la scala. Ok. E teoricamente, se io ho ragione, qua c'è la prima ceste col primo oggetto. Quindi controllate ovunque. Ok, andate prima voi. Ragazzi. Vai, andiamo insieme. Aspetta, stiamo andando alla volta che qui ci stiamo mostrando. Ragazzi, non c'è la ceste. Come non c'è la ceste? Non c'è. Come non c'è la ceste? Allora non hai ragione. No, sto controllando ovunque, non c'è. Non è neanche questa torre, ma è la più alta in assoluto. È qui, è qui, è qui, è qui, è qui. Dove? Era sopra il tetto. Era sopra il tetto. Fatemi vedere. Oh, mi... Ma come sei salito lì? Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Guardate, guardate. Che cos'è? Guardate. È un oggetto magico? È una mela d'oro. Quindi, allora, la lista era la mela d'oro, la pozione di esperienza e il libro magico. La mela d'oro l'abbiamo recuperata. Quindi mancano soltanto altri due oggetti e secondo me uno è lì nella chiesa. Quindi, teoricamente, basta andare alla chiesa. Però... Scusa, Steph. Dov'è la chiesa? Ho un po' di langorino, mi passi quella mela. No, Espina, dobbiamo tenere. Le tue bistecche. Vai via. Vai lontano dalla mela. Ma dimmi te, questo è sempre a mangiare. Io faccio una cosa un po' folle. Io faccio una cosa un po' folle. Zeronimo! Aia! È morbido? Fa un po' male? È morbidissimo. Fa un po' male. Ok. No, no, penso che sia... Aia, morbido. Pur di risparmiare blocchi, questo è altro. Si vede la chiesa da qua. Però c'è un problema. Oh, attenzione. È pieno zeppo di lava anche lì. È ovvio che è pieno di lava. Però abbiamo un bel po' di blocchi. Mamma mia. C'è questo alberino. Allora, io ne ho 15 ancora. Io ne ho più o meno 14. Io però almeno ne ho usato per ora, quindi... Ne ho tanti, ne ho tanti. Aspettate un attimo. Mamma mia, fa un po' paura questo salto, eh. Perché devi prendere questo? Fa un po' paura. Fa un po' paura, io non so. Che dite, gente? Andiamo di blocchi, noi? Ma sì, che semplice. Fate un investimento. Luca è andato in rita. No, io me la sento. Dai, mettete un blocco su. Io non voglio lasciare frenichi da sola. Ma sai, perché quegli scalini fanno fare anche salti un po' strani, quindi ti viene ancora più paura. Eh, sì, esatto, esatto. Aspettate, aspettate, aspettate. Ma se io vado così... Oh, che paura! Oh, perché lo deve fare qui? Mi stanno venendo i brividi, ragazzi. Aiuto. Ok, dai. Ma, eh, mi stai investendo troppi blocchi. Lo faccio, lo faccio. Io sto d'accordo con Espi, sto d'accordo con Espi. Ma mi fate prendere il primo... Ma ditemelo subito, così non mi prendo gli infarti, almeno. Ma no, ma noi lo facciamo apposta, non capisci? No, tu prenditeli per fare tanti schienosi. Esatto, e poi ci dici come sono. Per noi non c'è bisogno, per noi non c'è bisogno. Vabbè, vabbè. Guarda, non c'è nemmeno bisogno di sprecare blocchi. Quindi qua c'è un tetto proprio di fianco. Ah, sì? Oh, ottimo. È vero? Ottimo, vai Luca. Ragazzi. Stef. Sono caduto malamente. Ma come? Da. Ciao. Ma è ancora vivo. Guardalo tu, beh. Ho qualche problema a risalire. Avete qualche idea dall'in alto? Sì, ti lasciamo qui. Ciao Stef, addio. Grazie Fere, grazie. No, 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 no. Ti lancio una staccionata se ti serve, Stef. Grazie Espi, sei sempre utile tu. Allora, ragazzi, io direi di salvarlo solo perché ha la mela d'oro, perché altrimenti lo avrei volentieri lasciato lì. La volete questa? La devo bruciare? Ditemelo. La butto, eh? Stef, lanciala, lanciala, la prendiamo. La butto per terra. Io la butto per terra nella lava. No, 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 no. Ecco, allora impegnatevi a salvarmi. Ok, arrivo, non ti preoccupare. Andiamo lì, gli rubiamo la mela e gli uccidiamo. Bene, smettila. No, io lo voglio uccidere perché questi ricatti non vanno per niente bene. Espi, ma che mi servi qui? Oh, cazzo, è vero? Vai, Espi, ma che... Torna su, scala un po' l'albero, scala un po' l'albero. E' per aiutarti a fare la strada da qui. Eh, grazie. Potevi darmi indicazioni dall'alto, non c'era bisogno di scendere. Adesso dove vuoi andare, genio? E adesso piccola, guarda, guarda. Ho una strategia incredibile. Picconate risalite qua, scusi. Così? Eh sì, picconate dall'interno. Bucchiamo il tetto, Fere, va. Vai, dateci una mano, dateci una mano, infatti. Così cerchiamo di vedere la mano. Vai, Espi. Perfetto. Teoricamente. No, 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 no. Chiudi, chiudi, chiudi. Ce la lava lì. Oh, metti i rischi, Stef. Chiudete. Che rischi. Allora, aspetta, bucchiamo. Ehi ragazzi, ci vedete? Sì, vi vediamo. Ciao. Dovete salire qua. Vai, andiamo alla vecchia maniera, dai. Aspetta, ho del legno nuovo. Ma rendilo legno, legno, Espi, così sono quattro. È vero. Ops. Dai, Espi, così riuscite a salire. Mamma mia. Allora, devi togliere il tappetino. Guarda. Ci penso io, vai. Ciao, Stef. Espi, prima scende, poi spreca blocchi e poi mi lascia pure lì. Era per tenerti i compagnia. E ti lascia lì. Allora, ci siamo quindi? Siamo tornati. Da qua, da qua, da qua, da qua. Che spavento. Da qua non mi sembra male. Sta, sta. Ok. E adesso continuiamo a saltare nei vari alberi. Aiuto, che paura che ho. Qua è pieno di lava qua sotto. Sì, sicuro non vuole mettere qualche blocco extra? No, dai. Io me li metto. Cioè, io non voglio cascare così, ve lo dico. Cioè, dobbiamo rischiare. Allora. Come è Stef ogni volta. Abbiamo ancora dei blocchi. Facciamo. E poi Stef, cioè, a furia di fare così ci si cade, eh. Non è vero. Non lo dico, ve lo dico. Non è vero, non è vero. Fede che ha troppa paura. Sto creando una sorta di scala interna per arrivare. Spingetemi. Stiamo rompendo la chiesa. Non è la vera cosa. Attenti, eh. E' Espi che sta dando sberle. È colpa di Espi. Allora, allora, fatte silenzio. Silenzio tutti. Ascoltate a me, ok? E la rendo io. Eh, mamma. Sbasta. Sbasta tutti qua, eh. Non lo faccio più. Siete una squadra davvero terribile. Prima mi sono buttato perché non vi sopportavo più. Stai lì. Allora, siamo nel sottotetto. Teoricamente, se saliamo questa scala, siamo nel punto più alto. La torre. E ci dovrebbe essere la ceste. Allora, c'è un'altra scala ancora. Una traptor. E qui c'è la ceste per forza. Ok. Hai trovato la ceste? Sì, sì. Ce ne sono cinque ceste. Guarda, Espi, guarda. Cinque. Sono cinque, sono cinque. Guarda quante sono. Bellissime. Ma soltanto io non le vedo. Ma non c'è nulla. No, non c'è nulla. Ma dove stai portando? Ma è tutto pieno di lava. Cioè? Eh, ci sono le scale per scendermi tutto pieno. No, 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 attenti. 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 Aiuto, stiamo anche per cadere. No, no, allora. Accovaccio ti cosidderti. Direi che andare nell'altare non è fattibile in questo modo. Io non vedo niente. Cosa c'è nulla? Tu vedi qualcosa? C'è una ceste. E dite che è quella? Dite che è quella? E credo di sì, però... Eccola. È totalmente in mezzo alla lava. Ma come? È totalmente in mezzo. E cosa c'è? Ma è possibile? Dobbiamo scendere in stile James Bond. Espy, vai. Scendi. Espy, vai. È il tuo momento. Tieni, Espy. No, Espy, Espy, che fai? Espy, dà c'è quel buco. No, Espy, ti prego. Ti prego. Ok. Vabbè, ci procuriamo una scala. Chiudeteglielo. Poi torniamo, ok? Non so come faremo a recuperare il secondo oggetto magico. È davvero complicato. Di sicuro dovremo trovare un modo. Non ho idea. Io spero che in qualche modo è spiccata. Perché diciamo che è la cosa migliore. E se siamo in tre, funzioniamo meglio. Luca ha la creatività di dove passare. Parla quello che casca. Io faccio i salti pazzi. Parla quello che casca. Tu rompi le scatole. Siamo un team perfetto. Anzi, forse anche tu dovresti sparatarti insieme a Espy. Tu dovresti cadere. In ogni caso, ci fermiamo così. Ovviamente ci sarà la seconda parte. Lasciate tanti likes, commentini e sondaggio per supportare questo video. Perché se vi piace ne faremo tante altre in tante mappe diverse. Con tante missioni diverse. Quindi fateci sapere e ci fermiamo così. Bene che se vi scusate, lasciateci un like. Questa è la prima volta che vi è venuto il nostro video. Potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.